dall'8 giugno venite al cinema di ringhiera cinema cinema di ringhiera ringhiera dall'8 giugno 8 15 22 29 8 15 22 e 29 non giocartele all'otto ricordate che quei giorni di giugno c'è cinema di ringhiera cinema di ringhiera entrerai con un'idea uscirai con mille idee sicuramente venite a vedere anche radici e ravi ti aspettiamo ti aspettiamo ti aspettiamo non mancate ci sarò anche io dal 8 giugno in poi vi aspetti viene anche tu vi aspettiamo